A sirene spiegate nel quadrilatero del degrado. A Vicenza suona l'allarme criminalità tra via Firenze, via Torino, via Le Milano e via Le Roma. I cittadini chiedono sicurezza, la polizia locale risponde. Il sindaco blinda la zona attorno alla stazione ferroviaria ai confini di Campo Marzo. Questo sarà un presidio fisso che proterremo per un periodo per cercare di dare più sicurezza anche ai cittadini. I tre turni sono dalle 8 della mattina fino alle ore 24 della sera, in tre fasce orarie diverse e con la presenza di vari agenti, sia in borghese che in abiti in divisa di polizia locale. Questo per quanto riguarda la polizia locale. Al nostro fianco poi c'è sempre il supporto delle forze di polizia e carabinieri con i quali stiamo lavorando anche a delle azioni mirate che faremo. Battuglie fisse e azioni mirate, operazioni congiunte delle forze dell'ordine dopo l'accoltellamento del 28 dicembre in via Firenze. Gli agenti oggi possono contare anche sul nucleo operativo speciale che fa base nella sede distaccata della polizia locale a Campo Marzo. L'obiettivo è arginare il degrado e le situazioni di tensione e di violenza. Il compito degli agenti, accompagnati anche dal consigliere delegato alla sicurezza Nicolò Naclerio, non è facile. A volte si trovano a dover calmare chi, per facezze, alza la voce e si agita, come è capitato oggi proprio davanti agli occhi del sindaco Francesco Rucco. Cercheremo di stare qui, qui è in piazza Matteotti. Cosa c'è adesso? Qui c'è qualcuno già che sta urlando. Perché è evidente che la forza di polizia danno fastidio a qualcuno e quindi noi dobbiamo stare qui e presidiare il territorio. I controlli sui Green Pass, ordinati dal governo, ovviamente impegnano diversi agenti della polizia locale, ma la priorità oggi è presidiare le zone più calde della città, da Viale Milano a Piazza Matteotti e Santa Lucia. Abbiamo dovuto fare uno sforzo di personale per i controlli, li stiamo facendo tuttora sotto la guida della prefettura e della questura. Lavoreremo in questa direzione ancora per un periodo, speriamo però di poter tornare a concentrarci sul controllo del territorio, che è la cosa che oggi i cittadini richiedono come priorità assoluta e su questo condivido. Grazie.